ciao a tutti cari amici e bentrovati con una nuova canalizzazione del pensiero questa notte da parte della persona a cui pensate come promesso nei sondaggi ho aumentato i video con una singola canalizzazione perché ho visto appunto che dai voti è rimerso che mi piace di più che viene apprezzata maggiormente con la singola variante quindi oggi ho deciso di gestire la situazione in modo tale da avere più video durante la settimana con una singola variante magari farne due o tre a settimana per quanto riguarda coloro che desiderano le varianti più varianti allora io direi di partire subito ricordo come al solito che sono interattivi quindi sono validi dal momento in cui vengono visti se siete uomini che guardate girate quindi basta che pensiate che dall'altra parte quando dico lui o lei riguarda scusate quando parlo dell'uomo riguarda la vostra lei e inoltre vi ricordo sempre di fare attenzione e di guardare i video con e ascoltarli con la mente aperta perché naturalmente non è detto che risuonino con tutti io vi ricordo che in descrizione trovate le playlist con tutti i video quindi ci sono un sacco di canalizzazione un sacco di interattivi non sono vecchi come mi è stato scritto in qualche commento le energie non sono vecchie anzi nel momento in cui venite attrati da un video avete bisogno di ascoltare quelle energie che ci sono all'interno di quel video e per ottenere una risposta detto questo andiamo a girare le carte allora ditemi anche nei commenti se vi piace la nuova versione con le carte distese se preferite quelle con il mucchietto che mi fa molto piacere sapere la vostra opinione andiamo a girare anche il fondo mazzo allora cosa abbiamo qui allora in fondo mazzo abbiamo un bel nove di pentacoli quindi è una persona qui che se siete in contatto valuta il vostro rapporto in maniera estremamente positiva positivo scusate cioè vi ritiene abbondanti c'è delle persone che hanno tutto che sanno dare tutto che hanno sia dal punto di vista della del concreto quindi magari avete anche disponibilità economica o avete una carriera avviata abbondante nella vostra vita siete delle persone intelligenti belle esteticamente questa persona vi vede praticamente al culmine dell'arrivo della vostra realizzazione per alcune di voi potreste amare molto il bianco e vi piace vi piacciono le cose belle questa persona l'ha capito quindi cosa che pensa di voi attualmente pensa che siate una mano dal cielo per questa persona la stesa purtroppo un po si contraddice rispetto a quello che effettivamente sente di voi perché dico questo perché qui abbiamo il giudizio giudizio mi parla di una persona che vuole ripartire da zero ricominciare è un uomo che vorrebbe anche comunicare con voi se non siete in contatto vorrebbe farlo qua per alcuni di voi allora se siete in contatto e vi frequentate vale quello che ho detto rispetto al nove di denari cioè fatto che vi vede in abbondanza se non siete in contatto questa persona è una persona che tende ad essere un po egoista c'è un uomo che ama quello che ha accumulato nella sua vita non ha nessuna intenzione di condividerlo con nessuno è una persona è la che sia nella vita sia quel che si vuole cioè si esce di casa si vuole una cosa la prese la prende il giudizio mi parla di un contatto quindi se non siete in contatto questa persona vorrebbe comunicare con voi vorrebbe scrivervi però anche una persona che se invece non siete in contatto cioè scusa se già vi sentite vorrebbe ripartire vorrebbe un nuovo inizio probabilmente o con voi perché magari qui potreste essere anche ex o amici che magari hanno avuto una frequentazione poi si sono staccati poi voi saprete com'è la vostra situazione io cerco di dire un po quello che vedo in generale dalle carte quindi il giudizio mi parla di una presa di coscienza di qualcosa cioè del fatto che questa persona vuole ripartire nella sua vita ricominciare c'è un nuovo inizio vuole praticamente e lo vorrebbe con voi qual è il problema il problema è che qui allora intanto questa persona è molto legata al passato che sia con voi se avete già avuto una relazione che sia con una ex un matrimonio fallito una famiglia di origine qui c'è il passato che intromette il nuovo inizio si intromette in mezzo e crea dei problemi crea dei blocchi mentali psicologici che non è detto che esistano questa persona potrebbe avere delle paure molto profonde nell'iniziare qualcosa di nuovo con qualcosa di nuovo potrebbe riguardare anche la stabilità in un rapporto o se siete già insieme potrebbe anche voler dire per esempio se voi chiedete di andare a convivere questa persona va in panico se voi magari non so sposati o convivete vorrei avere un bambino questa persona va in ansia perché probabilmente ha delle paure collegate al passato o anche alla mamma per alcuni di voi che non gli consentono di progredire cioè arriva fino a un certo punto e poi si ferma nonostante il benessere che prova questa persona idem se questo se questo uomo è lontano da voi cioè se non state insieme se non avete rapporti questa persona vuole contattarvi gli piace comunicare con voi vorrebbe un nuovo inizio però teme anche di perdere la sua libertà se sapete che è single se sapete che è da solo perché probabilmente in passato ha già subito una situazione di forzatura che l'ha portato a soffrire a sentirsi in trappola bloccato infatti è proprio la chiave della lettura il sentirsi impedito bloccato fermo incapace di muoversi vedete questo otto di spade che è proprio in centro alla stesa segue poi un otto di bastoni allora l'otto di bastoni che va bene è uscito rovescio lo raddrizzo mi parla di il fuoco quindi una persona che comunque avrebbe l'istinto di venire da voi è una persona che vuole superare le proprie paure la carta di bastoni mi parla di un qualcosa di che viene da dentro è una cosa una scelta di pancia non è una cosa premeditata il fuoco della passione che arde che vuole andare da qualche parte e lo vuole con molta forza perché comunque è un otto è un otto ed è un movimento rapido veloce un qualcosa che arriva improvvisamente e questa persona pensa che vorrebbe appunto venire da voi catapultarsi e probabilmente anche avere un accordo quello che emerge però anche dalle carte è una sorta di confusione da parte di questa persona che potrebbe riguardare voi ma potrebbe anche riguardare la sua vita qui abbiamo un due di bastoni due di bastoni mi parla di un accordo però mi parla anche di una scelta quindi cercate di capire in base alla vostra situazione perché se sapete per esempio che questa persona è impegnata e all'attuale sta bene è ha un benessere è una zona di comfort questa persona sa che deve prendere una decisione e che deve farlo anche rapidamente rapidamente questo perché se vuole avere un nuovo inizio prima decide meglio è se invece questa persona ha queste per paure non le supera che riguardano anche il passato potrebbe riguardare anche una donna quindi la luna è una carta femminile potrebbe riguardare anche una persona che voi non conoscete o che sapete non sapete dell'esistenza oppure che sapete che esiste nella vita di questa persona ma non avete idea di quanto sia vincolante la presenza di questa persona fatto sta che un uomo che vuole comunque superarla e prendere e superare le paure scusatemi e prendere una decisione è un uomo che è protratto verso il futuro questo vedete come è aggrappato al bastone del futuro e il passato resta qui nell'angolino quindi una persona che ha intenzione superati i blocchi di farsi vivo di venire da voi trovare un accordo con voi quindi questo è quello che pensa questa persona va bene io spero che il video vi sia piaciuto vi invito come al solito a commentare ditemi se l'estesa risuona con voi cosa se cosa avete sentito vicino alla vostra situazione cosa non fatemi sapere vi invito anche a mettere un like ed iscrivervi al canale attivare la campanellina così vi arrivano tutti i video che carico io vi do un abbraccione grande e vi aspetto con una prossima canalizzazione del pensiero